L'approvazione del bilancio regionale ha fatto più notizia per la polemica tra i 5 Stelle e D'Alfonso nell'ormai famosa scena della poltrona tolta e poi ripresa dal governatore che per i risultati ottenuti. Il centro-destra, a sette giorni da quell'approvazione, spiega le criticità della nuova finanziaria della quale ancora nessuno aveva parlato. La finanziaria è totalmente insufficiente perché è una finanziaria piena di tasse, senza certezze, che non aggancia la ripresa economica. Infatti i dati occupazionali dell'Abruzzo e in generale della nostra produzione di pil, se non ci fosse il polo dell'automotive e del sangro, sarebbero fallimentari. Siamo tra le ultime regioni d'Italia e recuperiamo meno di tutti disoccupazione. Perché? Perché siamo pieni di tasse. Perché se non rimettiamo i soldi dalle tasche degli abruzzesi non facciamo ripartire i consumi interni. Se da un lato la tassazione era stata aumentata a causa del debito accumulato, il riferimento è alla sanità, oggi non si spiega perché il pareggio raggiunto abbia prodotto la chiusura di tanti presidi, la riduzione di tanti servizi e una tassazione ancora alta. Questo governo di centro-sinistra sa solo tassare riducendo i servizi, perché contemporaneamente vengono ridotte le strutture ospedaliere. Noi abbiamo lottato fino all'ultimo secondo utile, con ore e ore, giorni e giorni di ostruzionismo in aula tutta la notte e fino all'alba, per cercare almeno di ridurre il danno e su alcune attività come la tutoria del piccolo commercio, la difesa delle categorie più deboli, la possibilità di far ripartire alcune iniziative imprenditoriali, abbiamo ottenuto dei piccoli risultati che comunque per noi sono da sottolineare. E poi un piano di sviluppo del lavoro, poche chiare ancora le politiche dedicate all'occupazione e alle imprese. Noi abbiamo tasse al massimo ingiustificate, non abbiamo più bisogno degli ulteriori aumenti degli addizionali perché siamo in pareggio di bilancio. Sono 25 milioni di euro all'anno che possiamo restituire agli abruzzesi e va fatto.